Ho fotografato invece di parlare e il secondo libro del giovanissimo scrittore Adriano Cirasa, studente napoletano con la passione e l'amore per la fotografia, torna in libreria e sui bookstore con un best seller dedicato al mondo degli scatti, ovviamente quelli fatti con la macchina fotografica. Non è un manuale, né un libro di narrazione, né una biografia, ma un mix di tutto ciò. L'autore ha cercato in ogni modo di trasmettere a più persone possibili la passione per le foto, un volume diviso in tre parti, la prima tecnica sulla fotografia, la seconda composta da una ventina di pagine di fotografie scattate dall'autore, la terza un catalogo delle migliori macchine fotografiche e obiettivi del momento. Ai nostri microfoni l'autore spiega il perché di questo secondo lavoro. Nel libro c'è anche un piccolo catalogo dove spiego tutto, ovvero le macchine per ogni singolo uso e avvicinarsi al mondo della fotografia. Io dico sempre facile perché vuol dire avere emozioni, esprimere emozioni, soprattutto suscitarle tramite un'immagine. Una passione per la scrittura che non investe solo Adriano Cirasa, ma anche il padre Angelo, giornalista napoletano, che in queste settimane è uscito, edito da guida e editore, con un libro sulla Shoah, dopo Auschwitz, La Speranza. Il racconto di questo viaggio ad Auschwitz insieme agli studenti è l'occasione per rendere viva la memoria, per ricordare che quei momenti così tragici possono essere sempre dietro l'angolo, possono ripetersi, purtroppo è accaduto e rischia di ripetersi per quanto in forme differenti. Bisogna dare gli strumenti per curare quei valori, per curare la democrazia, la libertà ai giovani che altrimenti rischiano di vedere quegli episodi come chiusi in un libro di storia.